Salve a tutti amici, vediamo come censurare una targa in movimento con Adobe Premiere CC. Perché CC? Perché purtroppo è l'unico che possiede questa funzione di maschera e quindi noi useremo una maschera in movimento. Per chi non ha questa versione di Adobe Premiere ma ha After Effects ci sarebbe un altro tipo di tutorial che però io non sono in grado di farlo, ci sarebbe da fare un tracking automatico. Vi invito quindi a cercare qualche video come censurare la targa con After Effects o cose del genere, sicuramente troverete qualcosa. Allora come facciamo con Adobe Premiere CC? Allora dobbiamo semplicemente andare negli effetti e cercare la sfocatura, io uso sfocatura gaussiana così come ho fatto per il viso per chi ha seguito l'altro mio video. Quindi sfocatura gaussiana o gaussian blur se l'avete in inglese. Lo trasciniamo sul video e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attivare una maschera poligonale a 4 punti. È proprio quella che ci serve a 4 punti. Poi che cosa facciamo? La facciamo corrispondere ai bordi della nostra targa, ci posizioniamo al primo frame, quindi tutto indietro. E facciamo corrispondere la targa ai bordi. Ora è troppo piccola nel mio caso, quindi che cosa facciamo? Semplicemente qua invece che 100% facciamo 150 e poi ci muoviamo con questi selettori che nel mio caso sono scuri di colore, faccio fatica a riconoscerli, eccoli qua. Ora in questo caso la targa già si vede male ed è per questo che ho scelto questo video, per motivi di privacy non volevo già mostrare una targa. Comunque questo tutorial va bene per qualsiasi tipo di situazione con macchine con targa, con cartelloni grandi, piccoli. In sostanza non importa l'angolazione che ha la macchina, se parte da piccola, arriva lontana, perché voi dopo cambierete. Innanzitutto l'angolazione facendo tipo dei movimenti del genere, dovete semplicemente far aderire. Quindi che sia inclinata, che sia dritta, storta, piccola, grande, è indifferente. Quindi facciamo il primo frame, diciamo che ci sta bene, attiviamo il tracciato maschera. Quindi attiviamo il pulsante del tracking. Ecco fatto, adesso cosa dobbiamo fare? Io vado direttamente alla fine del video e sposto la maschera dove è adesso l'immagine. Quindi se la macchina per caso si è ingrandita o si è rimpicciolita, dovete anche ingrandire o rimpicciolire i bordi della maschera. Il tracking si occuperà di fare i movimenti intermedi. E qua, se il vostro video è un video fluido, magari fatto su un cavalletto o con un'auto che passa, sarà veramente facile. Perché da cima a fondo, vedete, lui tenta di spostarsi e cerca di far corrispondere la maschera alla targa. Ora io stavo filmando in viaggio, quindi ci sono state molte scosse e è veramente difficile fargli capire in automatico come fare. Quindi adesso, una volta fatto, mi muovo per esempio verso il centro, prendo e ritrascino. Vedete qua, magari posso ingrandire un pochino la maschera, perché qua la targa è un po' più grande. Poi torno un po' indietro e anche qua faccio corrispondere tutti i vari bordi. Quindi in sostanza si tratta adesso di muovervi pian piano avanti nell'immagine e aggiustare, fare tutti i vari aggiustamenti. Se state facendo tutto corretto, dovreste vedere a ogni modifica questi punti che sono i frame che voi state aggiungendo per ogni modifica. Quindi andando avanti, avanti, vedete ci sono delle scosse, quindi io sono obbligato praticamente ad andare frame per frame. Quindi ad un certo punto usate magari il tasto avanti sulla tastiera, come sto facendo adesso, e cambiate tutte le varie cose. Adesso non sto a fare un lavoro precisissimo, l'importante è che capiate come si fa. Quindi ripeto, non importa com'è angolata la targa, se si vede un piccolo pezzettino, un grande pezzo, tanto quella maschera poligonale a 4 punti ce la fate senza nessun problema. Poi per delle forme più complesse, non a 4 punti, ricordatevi cosa ho detto nel video dove parlavo delle maschere che si possono aggiungere punti o sottrarre punti. Dopo ve lo faccio vedere a fine video. Quindi ecco qua, più o meno ci stiamo... Vedete ci sono questi scossoni che rendono molto difficile un tracciatore automatico. In sostanza questa maschera sulla sfocatura gaussiana sta dicendo al programma di limitare l'effetto a una singola porzione, che in questo caso è questo rettangolo. Ecco qua, ci siamo quasi. Ovviamente più è lungo il video più sarà lungo il lavoro. Ok, diciamo che ci siamo. Finisco, finisco. Qua va troppo su. Va troppo su. Ok, diciamo che ci siamo. Mettiamo un play e vediamo che effettivamente il rettangolo... Se metto un play non si vede più. Andiamo avanti da noi. Vedete che il rettangolo segue la targa. Adesso dobbiamo semplicemente dargli una sfocatura. Ecco qua. Gliela do molto grande, così non si vede praticamente nulla. 24 va benissimo. Ora torno indietro, faccio play e vedete, ecco fatto il nostro oscuramento targa. Se si vede qualcosa ancora, o alzate la sfocatura o ampliate i bordi. Attenzione, non importa rifare tutto il tracciato maschera. Se volevate semplicemente che fosse o più grande o più piccola, basta semplicemente agire su questo comandino che è l'espansione della maschera. Vedete? Vi esagero l'effetto. Quindi, basta semplicemente aumentare un po' questa senza stare a ritoccare tutto quanto da capo. Abbiamo adesso un'espansione maschera più grande. Nel mio caso, visto che ci sono tanti scossoni e si potrebbe vedere qualche frazione di secondo perché non sono stato preciso, posso espandere ancora di più. Facciamo così. Aumento anche la sfocatura, così non si vede nulla. Mando un play ed ecco qua, così non si vede nulla di nulla. Anche se ovviamente è un po' grossolano come lavoro, sarebbe più bello farlo preciso preciso e lavorare di precisione con il tracciato maschera. Ricordatevi che anche questi settaggi, sfumatura maschera, espansione maschera, se attivati con il pulsantino sul timer, agiscono nello stesso effetto del tracciato maschera. Quindi potete espanderli e cambiare i valori avanti e indietro e farli adattare nel mezzo. Allora, se avete bisogno di una maschera a più punti, semplicemente tenete premuto il tasto CTRL, ecco qua, vedete il cursore assume una penna con un più e aggiungete i punti che volete. Ecco qua. Un clic, due clic, tenendo premuto CTRL. Adesso abbiamo una maschera a più punti. Quindi se dovete cancellare usate il tasto Alt, no, scusate, il tasto, è sempre il tasto CTRL, scusate, però invece che su un punto di mezzo, su un punto già presente, vedete che prende la forma del meno e così toglie i punti in eccesso. Quindi questo era come censurare una targa con Adobe Premiere CC, poi con After Effects che è un programma molto più usato per fare questo, ci sono delle procedure diverse che attualmente non conosco, quindi vi rimando a chi conosce il sistema. Un saluto a tutti.